Buongiorno e bentornati. In questo video vi presenteremo un piccolo librettino, una piccola monografia dedicata allo stereomicroscopio. Il libro costa 8,90 euro e l'editore è Libri Sandit. Il titolo del libro è Stereomicroscopio, uno strumento per osservazioni ingrandite. Cos'è, come funziona alcune applicazioni in molti settori. Vediamo un po' il sommario. Si parte da un'introduzione, poi abbiamo lo strumento, una visione d'insieme, i modelli costruttivi, l'inclinazione dello strumento, la rotazione della testa dello strumento, gli oculari, la misurazione di oggetti, il supporto di messa a fuoco, i prismi, il sistema di illuminazione, gli obiettivi e la base. Poi vengono proposti i parametri dello strumento, l'ingrandimento, il campo di visione e la distanza di lavoro. Poi alcuni possibili utilizzi. Non sono tutti, ma alcuni. Elettronica, mineralogia, numismatica, nella didattica, per le scienze naturali. Vantaggi ed errori da evitare nella scelta e nell'utilizzo. Viene presentati i vantaggi dello strumento, l'utilizzo a bassi ingrandimenti, la visione diretta, la tridimensionalità, come si mette a fuoco e poi il sistema biooculare che non significa stereoscopia. Poi c'è un appendice, lo stereoscopio a sbalzo, gli accessori, la risoluzione, luce, occhio e visione, stereoscopia, informazioni inutili, glossario e bibliografia. Speriamo di esservi stati utili. E ci vediamo al prossimo video. Grazie.